di Bala di Bala la di Bala masca colpisce al tramonto del primo tempo Iguain per Pjanic di Bala e la palla in rete il gol della Juventus al quattordicesimo minuto di mezzo allo svantaggio Di Bala va di Bala e la palla in rete il pareggio della Juventus ha pareggiato la Juventus ancora da Iguain per Di Bala prova il sinistro la palla in rete il gol del 4-2 il gol del 4-2 è tripletta per Paolo Di Bala partita il colone Bernardeschi per Di Bala Di Bala Di Bala è servito lo show ma adesso attacca la Juve Mazzogic dentro Di Bala eccolo il gol numero 50 con la maglia bianconera Sassuolo per il quadrato che cerca Di Bala in aria di rigore con la punta Paolo Di Bala doppietta e 2-0 Juventus dopo 4 minuti del secondo tempo rischiamo Assa va Di Bala un'altra tripletta per Paolo Di Bala Sassuolo 1 Piani ci porta via palla la prende Di Bala Di Bala Di Bala Di Bala ancora Paolo Di Bala Juventus 1 Torino 0 Di Bala alla fine il 4-0 arriva ancora Paolo Di Bala con il sinistro Di Bala e la palla in rete il gol di Paolo Di Bala ritorna al gol Paolo Di Bala la scosta verso Di Bala avanti Di Bala Di Bala dentro l'area Di Bala Di Bala 3-2 attenzione segna la Juventus il gol di Paolo Di Bala Kisio dentro il velo di Liebsteiner Di Bala cerca spazio per il sinistro la prova la hoja per l'1-0 Juventus filtrante verso Liebsteiner la chiusura poi Di Bala Paolo Di Bala torna davanti la Juventus eccola qui mette giù Di Bala ancora Di Bala in mezzo a 2 Di Bala la porta sul destro la doppietta di Paolo Di Bala ancora Juve con Di Bala che si infila Di Bala grande giocata Di Bala è un'area di rigore Di Bala è un grande gol quello di Paolo Di Bala ancora lui vince la Juve e lo spot di Di Bala che parte con il sinistro e trova l'incrocio dei pali grandissimo gol di Paolo Di Bala attenzione a Iguaini in area di rigore il tocco per Di Bala 2 a 0 e doppietta per Di Bala che va ad abbracciare con la trivela cercare guardato dalla parte opposta chitta per Di Bala che cerca a giro e trova un gol meraviglioso Paolo Di Bala fischia Pasqua parte il tiro spiazzato Pugioni doppietta della cocia e 2 a 1 Juve nei minuti di recupero della prima parte la cocia è spiazzato ancora Pugioni dalla parte opposta tripletta di Paolo Di Bala Di Bala Di Bala con il sinistro dal limite batte Donnarumma può guardare in mezzo e metterla dubia scosta batte traversone e arriva il gol di Paolo Di Bala per il 3 a 1 Juve al minuto 69 2 a 1 potrizza i i i 2 i 9 4 6 6 5 Grazie a tutti.